La parola è qui Zenzero Se vuoi ve le dico tutte ma non posso dirvi questa Ve ne copro uno, ve ne tolgo una Togliamo la O Togliamo la O No Sono nove lettere La facciamo monca senza una mano Chi è che era senza mano? C'era la famiglia Adams che c'era un personaggio che aveva la mano così Ah era solo la mano Era mano scusate ma Se non mi date la risposta vedete che comincio a dire cose che non Ma ancora l'ho detto Ma basta Vedete Se continuo così mi mandano via Perché vi aiuto troppo? Ok adesso divento come un pesce Questa parola va anche sul pesce tra l'altro Finchè non scrivo il telefono Anzi mi metto uno scotch Scotch whisky Non bevetelo però Voglio la chiamata Aprite il frigorifero Guardate nel settore verdure E lì cosa trovate? Limoni Carote Sedano Zucchine Cavoli Cavolfiori Grazie Beomma Beomma Good Un po' Me Come Come Beomma 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 Grazie a tutti.